Domani è il grande giorno della Sanremo, come ti senti intanto dopo la Tirreno? Come? Come ti senti dopo la Tirreno? Ah, sì, mi sento bene, Tirreno ho fatto molto bene, provavo a fare il mio massimo, però sono riuscito a fare il secondo posto come sempre e andiamo avanti, adesso credo che la mia stagione comincia da domani. Temi ancora una volta che ti correranno tutti contro, come è successo qualche altra volta già alla Tirreno e già quest'anno? Penso di sì, però vediamo cosa si riesce a fare. Con la squadra come pensate di muovervi? Sicuramente abbiamo una squadra molto forte, vediamo domani la gara, secondo me si decide gli ultimi 30 chilometri, vedo pedalare molto bene anche qua, amico, e vediamo domani. Pensi che ci danno attacchi comunque? Ah, sicuramente, siamo 200 in partenza, credo che sicuro qualcuno deve attaccare.